Bruno Bertero, Regione Friuli Venezia Giulia. La Regione Friuli Venezia Giulia si presenta per l'estate 2021 come destinazione in grado di soddisfare il bisogno di diversi segmenti di pubblico. Naturalmente partendo dal mare, dove i 130 km di costa mettono a disposizione al nostro visitatore tutta una serie di esperienze che sono esperienze legate naturalmente alla fruizione di quello che è l'ambiente marino, ma soprattutto secondo le nuove tendenze i temi legati alla enogastronomia con quelli che sono i prodotti del nostro territorio. È un elemento fondamentale quello che accompagnerà quest'estate proprio perché avremo la possibilità di mettere a disposizione dei nostri clienti diversi modi di fruire la nostra destinazione. Attraverso il prodotto sia in taste, potremo incontrare il valore dei produttori, potremo incontrare il valore di quelli che sono gli aspetti principali dell'enogastronomia della nostra regione. Il tema vino, ma non solo, il tema enogastronomico con tutte quelle che sono le ricette del nostro territorio. E poi naturalmente non possiamo dimenticare il secondo cluster fondamentale che è quello della montagna, nel quale noi possiamo offrire come Regione Friuli Venezia Giulia un distanziamento che è un distanziamento soprattutto dal punto di vista di sgancio di quello che è la monotonia e la quotidianità. I nostri territori offrono esperienza dal punto di vista di accompagnamento escursionistico, dal punto di vista di gestione per le famiglie su quelle che sono le nostre attività e le nostre aree di gioco. E infine il prodotto città. È un prodotto che oggi si presenta con tutti quelli che sono i servizi in accompagnamento per la fruizione e per la conoscenza dei nostri territori dal punto di vista storico e culturale. Quello che stiamo mettendo sul piatto, l'offerta che noi abbiamo per i nostri territori e per i nostri turisti è legata soprattutto a quello che è una fruizione sui temi principali legati alla sostenibilità. Il nuovo tema che andremo ad affrontare di qui alle prossime stagioni è esattamente questo, la possibilità di essere ospiti di una regione, di poter fruire degli ambienti che questa ne mette a disposizione e di non impattare sul nostro territorio. Questo è l'auspicio che noi abbiamo per tutti i nostri turisti, quelli che noi amiamo definire cittadini temporanei della regione Friuli-Venezia-Giulia. Grazie a tutti.